Personale del commissariato di polizia di Polistena ha dato esecuzione all'ordinanza d'applicazione di una misura cautelare personale di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di un 39enne di Polistena ritenuto responsabile di reati di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, sequestro di persona ed atti persecutori. L'uomo sin dagli inizi del mese scorso avrebbe posto in essere reteate condotte persecutorie. Si tratta di appostamenti, pedinamenti, chiamate e messaggi al cellulare ed ancora frasi intimidatorie, nonché una serie di violenze fisiche e verbali nei confronti di una donna sposata con la quale intratteneva una relazione extraconiugale, arrivando fin anche a privarla della libertà personale, restringendola all'interno della propria abitazione e impedendole di allontanarsi per diverse ore. Secondo quanto emerso all'attività investigativa, il 39enne avrebbe posto in essere il cosiddetto revenge porn, avendo inviato senza il dovuto consenso al marito della donna varie foto del contenuto sessualmente esplicito ritraenti la vittima. L'arrestato, rintracciato presso la propria abitazione al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Palmi, a disposizione ora dell'autorità giudiziaria.